Musica Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo alla Mesia Terme, il 14 di luglio e proprio qui nella sede di Potere al Popolo cioè l'inaugurazione non soltanto dell'Archigay di la Mesia, proprio costituita da qualche giorno ma anche alcune iniziative proprio organizzate dalla stessa Archigay la Mesia tra le quali la presentazione di un libro sulle persone perseguitate in Iran di Giuseppe Taddeo in mia compagnia il segretario dell'associazione Archigay la Mesia, Marco Amendola adesso chiederemo proprio a lui qual è la motivazione che li ha spinti insieme agli altri soci Giovanni Carpanzano e Simona Bagnato a fondare questo circolo proprio qui alla Mezzia innanzitutto ti salutiamo a Marco e ti chiediamo soprattutto come mai avete scelto insomma di fondare proprio qui alla Mezzia una sede dell'Archigay Allora, praticamente grazie a voi di essere qui, Libri.tv è sempre presente a tutte le iniziative che sono presenti sul territorio questo ringraziamento era doveroso poi l'Archigay, l'Archigay la Mezzia nasce dall'esigenza di trovare e far confluire una comunità che è la comunità LGBTQIA+, di la Mezzia Terme in un'unica associazione che possa dare risalto, visibilità, informazione e fare formazione per quanto riguarda questi temi la nascita di questa associazione qui alla Mezzia Terme è significativa è significativa anche la data del 14 luglio perché il 14 luglio del 1789 iniziava la rivoluzione francese il 14 luglio 2018 inizia un'altra rivoluzione, una rivoluzione civile, culturale, sociale che parte dalla Mezzia Terme e spera di scardinare i pregiudizi e tutte le discriminazioni del caso Marco, un'altra domanda alla fine della giornata ci sarà la proiezione di un video inerente alla sessualità quindi le persone asessuali ci vuoi spiegare cos'è la sessualità in breve anche se poi molti vedranno il video e soprattutto quanti sono gli asessuali in Italia e cosa diciamo li porta a sentirsi discriminati rispetto alla collettività allora la sessualità è un orientamento sessuale come tutti gli altri è non provare attrazione sessuale verso nessun genere poi la sessualità è un modo di essere come tutti gli orientamenti e quindi questo modo di essere si ripercuote anche sulla società perché gli asessuali non facendo sesso si vedono discriminati come tutte le altre persone quindi diciamo dal tuo punto di vista le persone asessuali vivono lo stigma insomma dell'essere non riconosciuti in quanto tali non perché tanto non facciano sesso in quanto siano però persone che provano dei sentimenti almeno quanto diciamo ho letto e mi sono documentato fanno sesso soltanto se emozionalmente coinvolti sì, quelli sono i temi sessuali, ci sono gli asessuali invece che non provano attrazione sessuale per nessuno in nessuna maniera anche se sono coinvolti emotivamente i temi sessuali invece se c'è un forte legame emotivo possono provare attrazione sessuale veniamo discriminati perché parlo in prima persona dato che io sono un asessuale perché un orientamento così marginale viene visto come una minaccia per l'umanità un noto quotidiano clericale tempi ci definì minaccia per l'umanità perché appunto il non provare attrazione sessuale il non fare sesso voleva dire che l'estinzione della razza umana sarebbe giunta prima o poi Marco un'ultima domanda più che altro un invito se vuoi invitare i nostri amici web ascoltatori soprattutto quelli lamettini a venirvi a trovare nella nuova sede che si trova proprio qui mi pare a Piazza d'Armi nella sede di Potere al Popolo questa sarà la sede ufficiale dell'Arcigay di Lamezia, giusto? Sì, diciamo che Potere al Popolo ci ha gentilmente concesso questo spazio noi ringraziamo Potere al Popolo di questo e invitiamo tutti quanti, tutti i lamettini tutti quelli del circondario a venire a trovarci a confrontarsi con noi e a parlare del proprio orientamento sessuale o semplicemente curiosare su un tema che molto spesso viene relegato alla sola sfera personale invece è un tema che riguarda tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti